Siamo qui con Alessandro Talamoni, responsabile marketing dell'Ascoli Calcio. È stato presentato oggi questo accordo tra Lascoli e MSC Crociere. Ci puoi spiegare in breve in cosa consiste? Esatto, siamo orgogliosi di aver sottoscritto questo accordo con MSC Crociere che consentirà a tutti i tifosi dell'Ascoli Calcio per questa stagione calcistica di avere degli sconti su tutta la flotta di MSC Crociere sottoscrivendo un abbonamento. In particolare, per chi sottoscriverà un abbonamento di Curva Sud avrà uno sconto di 200 euro a cabina, appunto su tutta la flotta di MSC Crociere quindi a prescindere dal porto di partenza e della destinazione. Per la tribuna scoperta sarà di 300 euro lo sconto, sempre a cabina per la tribuna coperta, quindi rossa e gialla, di 400 euro. E' importante come tecnicismo esibire sia la testa del tifoso che il segnaposto che viene rilasciato al momento della sottoscrizione dell'abbonamento nella ricevitoria dei punti di automatica. Poi abbiamo pensato, appunto, con MSC Crociere di andare in conto al discorso degli opere 65, che è una categoria che è sempre di interesse per noi come categoria e quindi di estendere, a prescindere dal settore di sottoscrizione dell'abbonamento 400 euro sempre di sconto. Quindi sia se si sottoscrive l'abbonamento in Curva Sud che in tribuna scoperta è sempre 400 euro a cabina. Quindi facendo un esempio, se due persone di Curva Sud, moglie e marito, sottoscrivono l'abbonamento, lo sconto a cabina è di 200 euro. Però se vanno insieme ai figli e prendono due cabine, è di 200 euro a cabina perché la scontistica è a cabina. In futuro ci sarà anche la possibilità di un possibile proprio sponsorizzazione da parte di MSC Crociere della Scoli Calcio? Questo è il primo step, il primo banco di prova che ci siamo dati con MSC Crociere per arrivare, poi è un discorso oltre che di sponsorizzazione, di organizzazione poi di iniziative, delle quali una potrebbe essere la Crociera della Scoli Calcio ovviamente a disputare a chiusura della stagione calcistica, quindi a giugno dove magari ci sarà la possibilità di avere a bordo dei rappresentanti della Scoli Calcio quindi sia i giocatori che i dirigenti che staff tecnico facendo degli stagioni formativi a bordo, organizzando delle partite di calcetto, mini torneo, perché queste navi sono dotate anche di questi comfort quindi di campi di calcetto a bordo quindi l'abbinamento di una scontistica più a questo discorso che è di natura sociale, culturale e di divertimento può essere un primo percorso che poi ci porterà in futuro a intraprendere nuovi scenari Un ulteriore modo di avvicinare i tifosi alla società? Esattamente, questo è l'intento della società, l'intento del Presidente e di Silvia Benigni che sta intraprendendo un lavoro molto importante da questo punto di vista quindi di avvicinare quello che è il patrimonio primo di Ascoli, quindi i tifosi a un club che ha una storia calcistica invidiabile Ok, grazie mille Allora, siamo qui con Diego Lucidi di MSC Crociere è stata presentata oggi la partnership tra l'Ascoli e MSC Crociere ci puoi dire in cosa consiste? Sì, è una scontistica dedicata per tutti coloro che sottoscriveranno l'abbonamento allo stadio e riguarda un po' tutti i settori dello stadio quindi per chi si sottoscriverà l'abbonamento alla curva un 200 euro di sconto a cabina per le tribune scoperte si parla di 300 euro a cabina fino a giungere al settore più prestigioso dello stadio le due poltroncine dove il tifoso potrà avere un 400 euro di sconto a cabina la scontistica prevede l'esibizione dell'abbonamento nelle agenzie di viaggio di tutto il territorio italiano quindi è fondamentale aver già sottoscritto l'abbonamento si potrà penotare in tutte le agenzie d'Italia e lo sconto è da intendersi a cabina, quindi non a persona Ci potrà anche essere poi in futuro un'eventuale crociera tra trifosi e giocatori tutti insieme? Questa collaborazione è un po' un primo step che poi riguarderà un progetto di più ampio respiro e se approderemo a una crociera, speriamo coinvolgendo i tifosi, daremo comunicazione Anche perché questo fatto è stato già fatto con Milan e Pescara? Quando è più o meno la percentuale di tifosi che hanno partecipato? Vari a secondo del bacino d'utenza e dell'importanza storica della squadra Ovviamente il Milan ha avuto più tifosi al seguito del Pescara anche se il Pescara Calcio comunque ha fatto la crociera alla fine di una stagione esaltante e di una promozione storica Ok, grazie